Porto Flavia è un luogo unico, qualcosa da vedere. Porto Flavia is an amazing place, something to see. Dove si trova? Where is it? Cos'è esattamente Porto Flavia? Qual è la sua storia? What exactly is Porto Flavia? What is its history? Come arrivare a Porto Flavia? How to get to Porto Flavia? Andiamo a scoprirlo! Let's go find out! Porto Flavia si trova nel sud ovest della Sardegna, nella zona di Iglesias. Porto Flavia is located in the southwest of Sardegna, in Italy, not far from Iglesias. Molti pensano che Porto Flavia fosse una miniera. È veramente così? Many think that Porto Flavia was a mine. Is it really so? No! Era l'avveneristico porto di imbarco del materiale estratto dalle miniere vicine, progettato dall'ingegnere veneziano Cesare Veccelli e realizzato nel 1924. No! It was the futuristic port of an embarkation for the material extracted from the nearby mines, designed by the venezian engineer Cesare Veccelli and built in 1924. Grazie ad un sistema di trasporto sulla taia, i materiali venivano trasportati fino all'apertura sul mare, dove venivano posizionate le navi su cui caricare il materiale. Thanks to a rail transportation system, the materials were transported to the opening on the sea, where the ships on which to load the material were positioned. Questo era un metodo assolutamente innovativo, che faceva risparmiare moltissimo tempo. Ora le miniere della zona non sono più in funzione, e quindi anche Porto Flavia, ma rimangono come luoghi affascinanti da visitare in questo scenario unico. Ora le mines in questa zona non sono più in operazione, e quindi anche Porto Flavia, ma rimangono fassinanti da visitare in questo unico settore. Come arrivare a Porto Flavia, how to get to Porto Flavia? Ci sono tre modi principali per vedere ed arrivare a Porto Flavia. There are three main ways to see and get to Porto Flavia. Se vuoi vedere Porto Flavia dal mare, ti consiglio di partire con un'imbarcazione, ad esempio con il gommone, dalla spiaggia di Maswa, che è la spiaggia attrezzata più vicina a Porto Flavia. If you want to see Porto Flavia from the sea, I recommend starting with a boat, for example with the rubber dinghy, from Maswa Beach. The closest key beach to Porto Flavia. Ci sono diverse opzioni di tour offerti tra cui scegliere. There are several tour options offered to choose from. Puoi anche fare un giro in barca da Cala Domestica o Bugerru. You can also take a boat tour from Cala Domestica or Bugerru. In this case, however, you will only see Porto Flavia from the outside. Is there a photo? Yes, it was the other one. You can also take a boat tour from Cala Domestica or Bugerru. If you want to visit Porto Flavia all'interno, puoi anche arrivarci in auto. If you want to visit Porto Flavia inside, you can also get there by car. Fai la strada come per dirigerti alla spiaggia di Maswa. Ma una volta arrivato al parcheggio, gira a destra per imboccare la strada in salita. Do the road as if you were going to Maswa Beach, but once you get to the parking lot, turn right to take the uphill road. Non fermarti al primo parcheggio, ma continua seguendo la strada sterrata e le indicazioni. Do not stop at the first parking, but continue following the dirt road. Quando arrivi a questo parcheggio, when you arrive at this parking lot, parcheggia la macchina e prosegui a piedi. Park your car and continue on foot. Caminando, puoi ammirare l'imponente faraglione di pan di zucchero. While walking, you can admire the imposing faraglione, the big rock in the water of pan di zucchero. Alla fine, arrivi di fronte alla biglietteria ed all'entrata di Porto Flavia, pronto per il tuo tour guidato. In the end, you arrive in front of the ticket office and the entrance, ready for your guided tour. All'interno di Porto Flavia, camminerai in lunghe gallerie, ammirando i diversi tipi di rocce e scoprendo maggiori dettagli della storia di questo luogo e della vita delle persone che lavoravano qui. Inside Porto Flavia, you will walk in long tunnels, admiring the different types of rocks and discovering more details of the history of this place and the life of the people who work here. Alla fine, ti troverai al di sotto della famosa scritta Porto Flavia e potrai ammirare il mare e il faraglione di pan di zucchero da una posizione assolutamente privilegiata. In the end, you will find yourself under the famous Porto Flavia writing and you will admire the sea and the pan di zucchero, huge rock, from an absolutely privileged position. E se non hai l'auto e magari non soggiorni nei dintorni di Iglesias, ma a Cagliari? What if you don't have a car? And maybe you don't stay near Iglesias, but in Cagliari? Puoi sfruttare il servizio di trasporto pubblico composto dal treno che ti porta da Cagliari ad Iglesias più bus Porto Flavia link che da Iglesias ti porta proprio a Porto Flavia. You can use the public transport service consisting of the train that takes you from Cagliari to Iglesias plus bus Porto Flavia link that from Iglesias takes you right to Porto Flavia. Puoi acquistare i biglietti su trenitalia.com You can buy tickets on trenitalia.com E tu cosa ne pensi di Porto Flavia? Hai un'esperienza da raccontare? Fammi sapere nei commenti! And what do you think of Porto Flavia? Do you have an experience to tell? Let me know in the comments! Ciao ed alla prossima! Bye and see you next time! Ciao! Grazie a tutti